buonasera come promesso ecco l'unico video della giornata spero che abbiate passato una buona domenica e quindi adesso riprendiamo un po il filo del discorso poi domani torneremo ovviamente al doppio video anche perché man mano si avvicina la possibilità di vedere la juventus scendere in campo con le maglie nuove senza sponsor secondo me c'è una gran gara adesso certo sapete che a me piace improvvisare ci pensavo adesso c'è una gran gara alla ricerca delle maglie della juve senza sponsor perché sono una primizia mi risulta che ne stiano vendendo tante perché rischia diventare una sorta di maglia evergreen ci sono quelle senza il pace della coppa italia quelle col pace della coppa italia devo dire che è strano no pensare perché il signo dei tempi qual è lo sponsor sulla maglia no però lì salta fuori il il tifoso vero passionale che vede la maglietta della juve non ci vede lo sponsor mi dispiace per la società juventus che ovviamente deve ragionare in termini economici di merchandising di brand quello che è stato salvato l'anno scorso anzi quasi ormai due anni fa e quindi capiscono le ragioni della società però ragazzi io sono convinto che se la juve non giocasse con lo sposo sulle magliette quest'anno venderebbe più maglie di quanto ne ha venduto in passato ho questa stranissima sensazione ma credo la maglia da calcio di calcio è bella intonsa così boh non lo so già le scritte scusate ho divagato e li lascio con un'altra leggerissima divagazione è nera azzurra però lo so e quindi lo so che su questo canale propagandare qualcosa di nera azzurro non piace si rischia di di essere sbeffeggiati anzi pure insultati non so se avete visto la prima e la seconda maglia del latina che se non sbaglio la serie c adesso non ricordo bene quale categoria guardate se avete già vista fatemi sapere se non avete vista andate a vedere e fatevi sapere secondo me come idea è strepitosa e vi posso dire posso dire che io ho provato ad entrare nel sito della tina due giorni fa 3 quando era appena stata lanciata il sito era bloccato hanno fatto un'operazione commerciale pazzesca hanno giocato l'amichevole con la roma a trigoria con quella maglia addosso mentre la roma giocava col fratino quindi sono andati in rete anche con quelle maglie anche con le fotografie della preve con la roma nei filmati da breve con la roma andatevele a vedere poi fatemi sapere fatemi sapere io la trovo l'idea straordinaria è una delle più belle maglie che se non mai state realizzate è una maglia divisiva e o piace o non piace non c'è la via di mezzo secondo me però va bene vi dicevo è sotto è molto sotto osservazione sulle naturalmente che si sta allenando che secondo me verrà schierato da tiago motta nella prima amichevole anche perché sennò non lo convocava e beh ho letto un commento di uno di voi che diceva secondo me l'ha convocato per fare in modo che si che cambi idea ma non deve cambiare di allora sua idea ce l'aveva già che era quella di rimanere alla juventus di fronte al fatto di essere ceduto di poter essere ceduto e la cosa è abbastanza evidente allora lui c'è beh scelgo io la destinazione vi volete cedere scelgo io dove andare non datemi all'estero datemi alla roma ma la sua idea primaria era quella di rimanere alla juventus è sia chiaro non passi il messaggio contrario e il fatto che tiago motta l'abbia convocato è perché ha un attestato di stima perché forse vuol far capire alla società che un giocatore come sulle sarebbe il caso di tenerlo sul fatto che ancora io ricevo domande del perché si vende sulle si prende copminers ho già spiegato lo spiego ancora perché con i soldi irate al mente presi da sulle puoi aprire irate al mente almeno un altro paio di trattative una su un minus e una su chi si vuole todiboh sancio quello che è ok perché adesso i nomi che circolano sono ormai quelli però attenzione che la juve con le sorprese ci sa sempre fare e ci ha sempre saputo fare quindi non si escluda niente si è diffuso un allarme sul il diz uno di voi mi scrive hai visto hai letto che il diz non ha detto no rinnovo è il momento di passaggio da un procuratore all'altro e quindi va ridiscusso un po tutto ok c'è l'accordo che aveva preso lo presidente procuratore è saltato perché non è stato firmato perché è cambiato il procuratore adesso è arrivato uno che ovviamente non è che voglia fare il copia e incolla con quello che aveva fatto il procuratore precedente c'è un attimo da ridiscutere l'idea della juve è quella di blindarlo fino al 2029 con il contratto di almeno un milione all'anno dove adesso prende 300 mila euro praticamente come pinsoglio 300 mila euro metti l'anno l'idea cosa di portarlo ad un milione è una prima blindatura ragazzi perché poi tra due anni saremo qui a commentare un adeguamento del contratto di dis che dal milione sarà passato che so io a tre poi dipenderà naturalmente anche dal suo rendimento ok i contratti vengono poi sempre adeguati si chiama adeguamento del contratto non stipolo di un contratto nuovo ma adeguamento quindi aumento dello stipendio difficilmente si fa una diminuzione del stipendio meglio le società lo propongono ma i giocatori non ci vogliono sentire da questo quindi è vero che il celsi impazzisce per il dis ma anche la juve impazzisce per il dis quindi è vero che il celsi sta provando a ad acquistare il giocatore ma altrettanto vero che la juve sta riuscendo a dire di no quindi io credo che questa trattativa non sa da fare non si sarà non sarà da fare a meno che non arrivino dei pazzi con 150 milioni e allora mi vendo anch'io per centocinquanta milioni quindi adesso al di là di tutto quindi mi sentirei di tranquillizzare assolutamente coloro che sono in apprensione sul destino di il dis perché il dis è tra l'altro uno dei punti fermi non solo di tiago motta perché lo sarebbe stato anche su lei ma anche della società quindi il dis giocherà nei tre dietro alla punta oppure nel 4 3 3 dipende naturalmente dal modulo di tiago motta che vedremo adesso nelle amichevoli in germania cercheremo di capire di scoprire al netto del fatto che mancano ancora i tre brasiliani che qualcosa deve arrivare ancora dal mercato quindi ancora non si può parlare della juve che vedremo sicuramente in campo il prossimo anno ecco diciamo che saranno indicative questi amichevoli per capire un po l'orientamento ma la difesa è questa la difesa è a 4 rigorosamente a 4 e giocò con la difesa a 3 per la prima volta in vita sua e vabbè allora se giocò con la difesa qui va bene no dai sono già di tutto scomodato perché fantazzi male me l'ho scomodato e iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente domani riprendiamo col nostro solito ritmo dei due video al giorno se vi va è la prima giò stesso iscrivetevi ciao 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 ciao